Prenotazioni online, presidi agli ingressi per velocizzare le code ed evitare assembramenti, mascherina obbligatoria, dispenser di gel igienizzante ovunque, controllo della febbre, percorsi segnalati e corridoi ampi e pulizia frequente degli spazi comuni. Ecco come si svolgerà la prima fiera d'Italia dopo il lockdown. Dal 12 al 20 settembre Padova farà da capofila a livello nazionale, aprendo le porte di Fiera Antiquari e la mostra a mercato dedicata all'arte e all'antiquariato. Questa è la prima fiera rivolta al pubblico che riparte. Essere fermi tutti questi mesi, sono 6-7 mesi, ma con strascichi importanti non è da poco. Non è da poco, gli investimenti da fare sono tanti. Noi abbiamo chiesto al governo, in maniera ripetuta, di avere attenzione per le fiere, perché le fiere non vogliono dire solo l'evento fierisco, vuol dire una ricaduta sul territorio molto forte. Basti pensare che la ricaduta sul territorio del fatturato di una fiera è 12 volte quel fatturato. La 36esima edizione di Antiquari è stata spostata da marzo a settembre a causa del Covid, ma comunque riuscirà a portare a Padova 80 antiquari con le loro collezioni, lo stesso numero del 2019. Nomi di primissimo piano a livello nazionale che porteranno pezzi importanti e testimonianze che attraversano i diversi periodi della storia dell'arte. Quest'anno siamo arrivati veramente a un livello qualitativo molto alto, con degli espositori importantissimi che vengono da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero, e presentano delle opere veramente significative. Ci saranno mobili, gioielli, tappeti, arazzi, icone, insomma ci sarà un po' di tutto e soprattutto grande qualità e grande interesse anche economico, perché in questo momento i valori sul mercato sono un po' più bassi, anche per il periodo post-Covid. Grazie a tutti.